dal consorzio al vecchio palazzetto i cantieri della pesaro che cambia dichiarata inagibile la sede della provincia dipendenti trasferiti 3.000 saturimetri dal comune ecco come funzionano e come richiederli 5 scuole della provincia premiate dal progetto digi e lode di era buona serata eccoci pronti al nostro telegiornale di questo giovedì 19 novembre apriamo parlando di alcuni lavori pubblici che si stanno tenendo nella città di pesaro e stanno modificando alcuni luoghi della città dall'abbattimento ad esempio del consorzio agrario del porto fino al vecchio palazzetto dello sport scopriamo in questo primo servizio lo stato dei tanti lavori in città pesaro città che cambia il passaggio a zona arancione e le restrizioni che ne sono derivate non stanno frenando ruspe e cantieri disseminati in ogni quartiere della città riqualificazioni e demolizioni come quella che riguarda l'ex consorzio agrario del porto nell'area di collegamento fra viale trieste e calata caio duilio in meno di 15 giorni sarà completato l'abbattimento di un edificio vetusto e degradato da anni il consorzio cederà il posto a due palazzi di sette piani che ospiteranno 70 appartamenti più di metà dei quali sono già stati venduti ancora prima dell'essere costruiti le due nuove torri del porto saranno completate nel giro di due anni nella stessa area il comune ha previsto anche il nuovo collegamento ciclabile che unirà viale trieste al ponte di soria e al tratto di bicipolitana di baia flaminia se il consorzio è un simbolo del degrado il vecchio hangar è invece l'emblema cittadino di fasti sportivi indimenticati e forse irripetibili al palasport di viale dei partigiani proseguono infatti i lavori e dopo l'eliminazione del tetto si sta procedendo a una nuova copertura e alla trasformazione dei gradoni che respirarono i due scudetti della scavolini basket in una nuova struttura polivalente sportiva culturale e turistica sport giovani e meno giovani si stanno invece impossessando di via dell'acquedotto dopo l'inaugurazione della pista di skateboard e pump track che hanno rianimato un luogo troppo spesso trascurato della città è in fase di ultimazione anche il nuovo bocciodromo nuove strutture ma anche nuova viabilità tra pochi giorni sarà completata la rotatoria di baia flaminia adiacente al nuovo parcheggio ormai pronto ad ospitare le prime auto in sosta il tutto di fronte a un altro edificio d'impatto il cantiere rossini che in questi mesi ha gradatamente modificato l'immagine del porto e della foce del foglia lavori in corso e lavori in stand by fra questi l'ex tribunale di via san francesco destinato a trasformarsi parzialmente in un museo una nuova destinazione d'uso quindi che ci viene illustrata in questa intervista al vice sindaco daniele vimini è una buona notizia il fatto che possano ripartire lavori perché dice stato contenzioso con la dita che sarà giudicata i lavori con l'ultima gara è risolto a favore dell'amministrazione comunale quindi ora siamo in grado con le opere pubbliche l'assessore belloni sta seguendo questa cosa nel dettaglio di rimodulare il progetto e fare una nuova gara per poter procedere con il completamento dei lavori lavori che prevedevano degli uffici quindi così sarà l'ex tribunale ospiterà degli uffici della città in modo da poter ridurre gli affitti che il comune paga in giro nei vari palazzi accorpare molto di più e ravvicinare i servizi tra piazza del popolo via manzoni dove ora c'è una serie di uffici pubblici e appunto l'ex tribunale quindi risposta importante anche per fare rivivere via San Francesco quella parte di città che un po' ha sofferto dalla chiusura del tribunale da quando insomma si è poi spostato in piazzale Carducci e a parte questo ovviamente è una destinazione importante individuata visto che l'ex convento è molto grande e quindi al piano primo verranno ospitate le moto acquistate dal dal asi con assieme al ministero dei beni culturali della collezione morbidelli le moto più storiche quelle che non potevano anche per leggere diciamo essere vendute come un'altra parte della collezione di quelle più moderne siamo quelle con più storia ecco andranno a costituire questo nucleo di museo morbidelli all'interno della dell'ex tribunale e assieme a queste sempre a primo piano anche la una collezione importantissima donata dalla famiglia di Loriano Sguanci dall'archivio di Loriano Sguanci e che rappresenta le sculture più grandi anche quelle più imponenti diciamo e che un corpus di quasi 40 opere che andranno quindi a impreziosire il percorso di visita del palazzo e quindi anche diventare un ulteriore elemento di attrazione per questo fantastico contenitore dei tempi non saranno immediati ma neanche lunghissimi nel senso che contiamo di poter far partire la gara nelle prossime settimane progetto gara nelle prossime settimane quindi un avvio dei lavori nel 2021 per diciamo un anno e mezzo più o meno di lavori saranno necessari perché ovviamente è sempre un palazzo storico delicato però diciamo sarà più una questione di rieguamento impiantistico per queste nuove funzioni in modo che appunto questo importante contenitore torni a vivere e sia un altro importante contributo alla vivacità e anche all'economia del centro storico. La sede della provincia che ha sede proprio a Pesaro è stata dichiarata inagibile, un risponso arrivato dopo alcune verifiche statiche che sono state effettuate in vista di lavori di efficientamento energetico che dovevano essere realizzati sull'edificio. I problemi risiederebbero nella composizione del cemento armato che non risponde ai requisiti minimi previsti dalla legge. Non c'è pericolo di crollo ma per la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti la sede verrà abbandonata. Attualmente gli uffici amministrativi ospitano 16 dipendenti costantemente in presenza, 40 in smart working parziale e 29 in smart working completo. I dipendenti verranno trasferiti in parte nella palazzina della provincia che ospita gli uffici tecnici che non ha problemi di staticità, in parte invece in altri sedi che si stanno individuando. Ed ora il consueto appuntamento con gli aggiornamenti e i dati per quanto riguarda il coronavirus sono 667 i nuovi casi positivi al coronavirus nella regione Marche, rilevati nelle ultime 24 ore su 2.213 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi. Crescono i contagi nella provincia di Pesaro Urbino, aumentati in un giorno di 168 casi. Più colpita dal covid solo la provincia di Ancona con 213 casi. Stabile invece il dato dei pazienti ricoverati nelle Marche, che sono attualmente 604. Di questi sono 78 quelli in terapia intensiva, cioè uno in meno di ieri. Il Comune di Pesaro in questi ultimi giorni ha annunciato l'acquisto di 3.000 saturimetri da consegnare alle famiglie pesaresi. In questo prossimo servizio però cerchiamo di capire bene come si utilizza il saturimetro e anche chi può richiederlo. Sono in arrivo 3.000 saturimetri per le famiglie pesaresi che hanno in casa persone sopra i 65 anni o disabili gravi. Il Comune di Pesaro ha annunciato nei giorni scorsi di aver investito così 40.000 euro avanzati dal milione speso in voucher di bonus spesa, bonus bambini e bonus attività che si stanno consegnando porta a porta questa settimana. Ora arrivano anche delucidazioni su come si potrà ottenere gratuitamente il saturimetro. Si potrà fare domanda da mercoledì 25 novembre a mercoledì 2 dicembre. Dopodiché Comune e Aspes consegneranno i saturimetri ai richiedenti nei primi giorni di dicembre. Le domande andranno inoltrate sul sito del Comune oppure ad un numero verde che verrà comunicato nella giornata di martedì. Il saturimetro è uno strumento piccolo che viene utilizzato proprio per vedere e verificare la saturazione dell'ossigeno all'interno del nostro organismo. È composto di uno schermo, di un piccolo schermo dove vengono riportate sia l'ossigenazione del corpo e sia i battiti cardiaci. Quindi sono praticamente le due cose che vanno sempre di pari passo. Dopodiché si inserisce all'interno del piccolo strumento un dito e si aspetta praticamente qualche secondo e dopo qualche secondo abbiamo la risposta alla nostra richiesta praticamente. E questo sul visore si vede praticamente benissimo come si deve comportare. Diciamo che l'ossigenazione per essere perfetta deve essere dai 93 ai 99. Il saturimetro è uno strumento di prevenzione che in farmacia ha un prezzo che oscilla fra i 40 e i 60 euro. Strumento che è probabile venga richiesto da più di 3.000 famiglie. Se si dovesse sforare quella soglia verrà data priorità alle famiglie con reddito più basso, a quelle che pagano l'affitto e agli anziani che vivono soli. Noi siamo parte integrante di questo progetto che ha voluto fortemente il sindaco Ricci dare la possibilità a 3.000 famiglie pesaresi di poter utilizzare questo strumento che in questo momento di epidemia legata al covid è fondamentale proprio all'interno delle famiglie. I virologi dicono dove c'è un termometro ci dovrebbe essere un saturimetro e la volontà del Comune di Pesaro è proprio quella di poter dare la possibilità anche a quelli che hanno problemi economici, meno possibilità di approcciarsi a uno strumento di questo genere e di poterlo fornire. Dalla prima settimana di dicembre noi come Aspens forniremo al Comune questi 3.000 saturimetri che misurano l'ossigenazione del sangue e anche il battito cardiaco quindi daranno la possibilità di conoscere il livello di ossigenazione che è quello che bisogna tenere sotto controllo per capire se ci sono o meno problemi proprio legati all'infezione da covid. Come Aspens organizzeremo anche per tutti i volontari che distribuiranno questi saturimetri nei quartieri della città un corso di formazione proprio per spiegare come funziona il saturimetro, quale sono l'approccio ai valori e alle misurazioni che il saturimetro farà e lo faremo proprio coinvolgendo tutti i quartieri e i volontari che già sono stati utilizzati per conto del Comune proprio per la distribuzione in questi giorni e nei mesi precedenti dei buoni prima spese e poi dei buoni bambini. Lutto nel mondo della cultura pesarese è morta grazie a Bisconti Ugolini, studiosa, ricercatrice e memoria storica dell'arte ceramista. Fu autrice di numerosi libri dedicati alla ceramica, tra cui ceramiche pesaresi dal XVIII al XX secolo. I funerali si celebreranno sabato alle 10.30 nella chiesa di Cristo Re. Continuano i controlli per il rispetto dei protocolli anti-covid nelle attività produttive e commerciali della provincia. La prefettura comunica come Ispettorato del Lavoro, Carabinieri, Asur e Vigili del Fuoco abbiano effettuato fino allo scorso 16 novembre 152 ispezioni, sanzionando 12 attività con un provvedimento di sospensione. La provincia di Pesarurbino ha inviato al Ministero dell'Istruzione l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2020 per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole superiori. Alla provincia spetteranno 5 milioni e 369 mila euro. Ben 2 milioni andranno ai lavori di bonifica Mianto e adeguamento sismico del liceo scientifico Torelle di Fano. Altri 2 milioni agli adeguamenti antisismici del campus di Pesaro. Interventi anche alla Scuola del Libro di Urbino e agli istituti Olivetti e Battisti di Fano. Mario Di Remigio è stato rieletto presidente dell'Associazione Ristoratori di Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord. Presiederà il nuovo consiglio direttivo e che resterà in carica fino al 2022. Continuano le battaglie del ristoratore Umberto Carriera che assieme all'onorevole Vittorio Sgarbi ha annunciato di aver presentato ricorso attraverso i propri avvocati contro tutti i dpcm del premier Giuseppe Conte presso la Corte Costituzionale reputando i decreti lesivi degli stessi principi della Costituzione. Domenica 22 novembre sarà il giorno di Santa Cecilia patrona della musica e dei musicisti. Pesaro Città Creativa Unesco decide di celebrare questa data dall'alto valore simbolico elevando con i concerti online di Conservatorio e Orchestra Sinfonica Rossini. Per il Conservatorio doppio evento nel pomeriggio il concerto sinfonico Santa Cecilia Streaming alle 17 da Palazzo Olivieri e alle ore 18.30 la Messa Solenne all'Organo del Duomo. L'Orchestra Sinfonica Rossini proporrà invece un concerto alle 11.30 in diretta streaming dal Teatro Rossini visibile sul sito, dalla pagina Facebook e dal canale YouTube dell'Orchestra. Sarà eseguito un omaggio a Beethoven e una sinfonia da Il Barbiere di Siviglia. Ed ora le notizie che ci arrivano dalla città della fortuna nonostante i Covid-19 anche il Natale di Fanno è ai blocchi di partenza. Non è ancora stato deciso quando verrà acceso l'albero in piazza 20 settembre dato appunto il divieto di assembramento ma intanto l'amministrazione si concentra sul sostegno agli esercenti con apposite iniziative che ci vengono illustrate in questo servizio di Simone Celli. C'era una volta il Natale, quello delle luci e degli addobbi e che doveva portare più turisti possibile. Poi è arrivato il Covid e anche se nonostante tutto si cerca di preservare ancora un certo spirito natalizio il focus si è sicuramente spostato. Niente turisti, niente assembramenti, niente eventi di massa. Ora la priorità è aiutare gli esercenti a minimizzare i danni della crisi economica dovuta alla pandemia e anche per questo guai a spegnere le luci o a rinunciare agli addobbi. Dunque, che tipo di Natale ci aspetta? Innanzitutto questo è un Natale da passare insieme. Le decisioni sono da affrontare ovviamente di peso perché sarà un periodo molto delicato ma come sempre Fanno accenderà il suo Natale con tanti allestimenti cittadini che manterranno la fiducia nel futuro. Quindi in Centro Storico avremo degli allestimenti luminosi, ci sarà l'albero in piazza 20 settembre, sarà installato l'albero del Signore Seri in una location tutta da scoprire, un albero caratteristico per la città di Fanno, ma soprattutto cercheremo di trasferire questa necessità quest'anno di aiutare veramente la città, di aiutare i commercianti, di aiutare i ristoranti e tutto il settore Oreca, di aiutare le attività economiche che stanno tanto soffrendo in questa crisi sanitaria che ovviamente si sta trasformando in un'importante crisi economica. Poi ovviamente quest'anno non chiederemo delle economie per gli allestimenti ai commercianti del Centro Storico, anzi cerchiamo di dargli il più supporto possibile. Non solo attività commerciali però, anche gli operatori della cultura saranno in qualche modo protagonisti del prossimo Natale. Non mancheranno anche delle belle sorprese che in un qualche modo sveleremo al momento opportuno, non mancheranno momenti di spettacolo perché anche il mondo della cultura, dello spettacolo, dell'arte è in grande difficoltà, quindi abbiamo deciso in un qualche modo di fargli lavorare. Ad esempio Fano avrà il suo momento di inaugurazione, il suo momento di accensione dell'albero in un modo particolare, come è possibile realizzarlo oggi, quindi non in presenza ma in questo caso in digitale, ma un momento per far percepire insomma che dobbiamo comunque insieme lavorare verso il futuro e dobbiamo esprimere fiducia, nonostante ovviamente il momento è veramente tanto delicato per tutti. Mi fa piacere, devo ringraziare il tavolo economico, le associazioni di categoria quindi, ma anche tutti i commercianti che abbiamo incontrato, perché sono veramente, in questo momento delicato, sono propositivi verso il futuro, vogliono cercare di fare attività che gli possono aiutare. Ovviamente la nostra speranza è che veramente ci sia la possibilità nel periodo natalizio di una piccola apertura per incentivare i consumi, nonostante il momento veramente delicato. La scuola Chiara Lubici e altri quattro istituti della provincia di Pesaro Urbino sono stati premiati dall'azienda Multiservizi ERA con un riconoscimento di 2.500 euro grazie ad un progetto molto particolare che ci viene spiegato in questo prossimo servizio. Ci troviamo alla scuola primaria Chiara Lubici di Pesaro, una delle cinque scuole della provincia di Pesaro e Urbino, che ha ricevuto un premio di 2.500 euro, premio consegnato dal gruppo ERA nell'ambito del concorso Digi e Lode. Assieme alla scuola primaria Lubici hanno beneficiato a Pesaro di questo premio anche la scuola di Villa San Martino San Giovanni Bosco e la secondaria di primo grado Dante Alighieri. A Fermignano è stata premiata la secondaria di primo grado Donato Bramante e a Peglio la primaria Urbania. 12.500 euro dunque complessivamente consegnati alle scuole della provincia di Pesaro nell'ambito del progetto DIERA Digi e Lode, un progetto nato in Emilia Romagna nel 2017 che dalla scorsa edizione conclusasi il 31 maggio è stato esteso anche alle Marche e all'Abruzzo. Dieci le scuole premiate tra Marche e Abruzzo, ben la metà proprio nella provincia di Pesaro e Urbino. Con la premiazione di 20 scuole si chiude il progetto DIGE e Lode nella sua terza edizione, edizione che ha visto complessivamente erogare alle scuole del nostro territorio 100.000 euro di contributi ed è un progetto che nasce tre anni fa con l'obiettivo di migliorare la didattica digitale delle scuole attraverso cosa? Attraverso lo stimolo dei comportamenti digitali dei nostri clienti. Quali sono questi comportamenti? L'invio elettronico della bolletta, piuttosto che la gestione delle forniture attraverso l'app o i servizi online, la richiesta del pagamento attraverso la domicilazione bancaria, la comunicazione dell'autolattura attraverso l'app. Tutti questi comportamenti aiutano a scegliere le scuole del proprio territorio che riceveranno poi il contributo dei 2.500 euro da spendere appunto per la digitalizzazione. È un progetto che ha portato grandi risultati perché nell'arco di questi tre anni abbiamo erogato alle scuole oltre 300.000 euro di contributi, i nostri clienti hanno scelto i servizi digitali per circa un terzo del loro numero e oltre la metà dei clienti ha scelto di pagare attraverso la domicilazione bancaria. Quindi un risultato importante e proprio per questo motivo abbiamo deciso di lanciare la quarta edizione di questo progetto che accompagnerà il prossimo anno scolastico. Nel caso della scuola Chiara, l'Ubic a premiare la scuola sono stati di fatto i genitori dei ragazzi clienti di ERA. I responsabili sono stati i genitori che hanno utilizzato i servizi di ERA e hanno scelto noi come scuola a cui dare i punti che mettevate a disposizione. E quindi soprattutto ringrazio i genitori e ci fa anche piacere pensare che comunque con il nostro modo di essere scuola e anche istituto abbiamo avuto insomma la loro fiducia. Come viene investito questo premio? Allora questo premio dicevo una mano dal cielo perché abbiamo comperato cinque computer. Noi abbiamo sempre dato come istituto proprio molta importanza alla didattica digitale come valore aggiunto alla didattica classica. In questo periodo e anche nello scorso anno è diventata importantissima perché ci ha permesso di mantenere un rapporto importante con gli alunni che erano a casa. Abbiamo dato anche computer incomodato d'uso ai genitori che ne avevano bisogno e quindi ben venga, ecco, noi contentissimi. Chissà quali delizie ci ha preparato oggi il nostro chef Daniele Patti. Buonasera dal ristorante Lo Scudiero. Oggi abbiamo preparato mazzancolla mezza fritta, maionese di acqua di polpo, salsa gretto, salsa basca, puntarelle e alici. Il piatto è un'ispirazione completamente mediterranea. Abbiamo voluto utilizzare le mazzancolle, friggerle per metà dalla parte delle zampette che saranno come delle chips croccanti sotto il nostro palato per poi sentire la succulenza e la dolcezza della mazzancolla. Li abbiniamo come? Con una maionese di polpo. Quindi prendiamo il polpo, l'acqua che è di cottura, la riduciamo, la filtriamo e la andiamo proprio a allungare come se fossero delle uova di una classica maionese. Naturalmente questa maionese è senza uova, fatta con la proteina dell'acqua di polpo. La salsa basca è fatta con le foglie delle puntarelle. Quindi la parte esterna delle puntarelle, tramite un fondo di olio, alici del cantabrico, cipolla, un po' di patata e dell'acqua affumicata, è appunto puntarelle. Andiamo a fare questa crema di questo amaro che contrasta con la dolcezza dell'acqua di polpo quindi della maionese e della mazzancolla. In più diamo un pizzico di salsa gretto che è fatto con pomodori, aglio, basilico che vengono praticamente fatto questo cremoso di pomodoro. Il piatto è di un'eleganza e di una vivacità senza precedenti. Mazzancolla mezza fritta, puntarelle, alici, salsa basca, maionese di polpo e salsa gretto. Vi aspetto al ristorante Lo Scudiero per farvi provare questo piatto che sta facendo emozionare tutti i nostri clienti. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale di questa sera ma abbiamo tante cose da segnalarvi per quanto riguarda la programmazione di questa sera e anche dei prossimi giorni su Rossini TV. Intanto questa sera alle ore 21.15 vedrete il video orientamento dell'Istituto Santa Marta Alberghiero di Pesaro. E poi ancora Casa Rossini domani, come tutti lunedì, mercoledì e venerdì torna un nuovo appuntamento con Casa Rossini e alle ore 10 saremo in diretta. Mi raccomando seguiteci in diretta sia TV che Facebook con tanti ospiti anche nella puntata di domani. E domani alle 20.30, visto che insomma si starà a casa a diverso tempo, potete godervi seduti dal vostro salotto la partita dell'Ital Service Calcio a 5 Pesaro che vi ricordo è la squadra in Serie A che si batterà al Palanino Pizza contro la Bernardiello Petrarca. E vi ricordiamo anche che domani alle 19 torna il Vallefoglia Magazine. Non perdetevi questa edizione perché ci sono tante informazioni riguardanti anche ad esempio il biodigestore e tantissime le novità raccontate da Andrea Sabatini. E poi ogni venerdì alle 17.30, il sabato alle 10.30 e alle 16 la domenica alle 8 alle 11 grazie alla collaborazione di Don Marco Di Giorgio c'è la lettura e il commento al Vangelo della Domenica. Ho detto veramente tutto, vi ricordo che invece il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa che verrà condotta da Daniele Sacchi. Buona serata.